Un autore acquisisce i diritti sulla sua opera con un semplice automatismo. La legge prevede che nel momento in cui l'opera creata abbia dei minimi requisiti di creatività, cioè sia nuova, innovativa e creativa, il suo autore abbia tutto il fascio dei cosiddetti diritti d'autore. Poi per capire bene quali sono i tipi di opere che vengono ritenuti all'interno del campo d'azione del diritto d'autore, dobbiamo leggere appunto i primi articoli da legge sul diritto d'autore e per capire quali sono i diritti che effettivamente l'autore poi detiene e di cui diventa titolare per poi esercitarli, dobbiamo leggere gli articoli successivi. Tutti questi articoli vengono poi definiti genericamente i diritti d'autore e l'autore diventa titolare, diciamo, signore incontrastato della gestione di questi diritti sulla sua opera. Grazie. 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 Grazie.